È l'ultimo torniante terzista di Gubbio ed ha scelto di andare in pensione chiudendo l'attività di via Benedetto Croce. In città oggi le aziende o i singoli che necessitano di manufatti crudi o cotti devono andare a Gualdo o a Deruta. Con lui è finita una generazione di artigiani che per secoli da queste parti ha forgiato con le proprie mani e con la ruota del tornio la terra cruda, tirando fuori dall'informe, avrebbe detto Michelangelo, la forma che vi è dentro. Giancarlo Minelli è l'icona di un tempo dalle mille contraddizioni che ha fame di lavoro, ma contemporaneamente fagocita gli antichi mestieri, distruggendoli con la logica del mercato, meno costi più ti acquisto. Quanta arte ci sia dietro è solo un optional. Oggi, per puro diletto e per passione, Giancarlo continua a far girare il suo tornio per plasmare, ad esempio, le brocche dei ceri, quelle che Capodieci lanciano il 15 maggio, quelle che tanti eugubini tengono in bella mostra, nel salotto buono di casa. Nessuno però pensa da dove vengono. Quando Giancarlo non ci sarà più, chi farà le brocche? Lui se la ride, comprendendo la beffa della sorte. Ma quando lei si sarà stancato come volontario di fare e per passione queste brocche dei ceri, bisognerà andare a Deruta, a farsele fare? E per forza, a Deruta o Gualdo ci prende. Una cosa quasi buffa, insomma. Eh beh, per forza. Perché non è che oggi uno magari viene qua quattro giorni e fa le brocche di ceri, ha capito? Perché ci vuole, da quattro a cinque anni, prima di fare la brocca grande di ceri fatta bene. In questa bottega negli anni sono passati i giovani con la voglia di imparare un mestiere, persino suo figlio, studente dell'Istituto d'Arte, ma che poi hanno via via abbandonato, scarsi profitti e poca pazienza nell'apprendere, ma anche, dice Giancarlo, una politica che a gubbio non ha saputo valorizzare l'arte ceramica, che ora rischia di morire. A Deruta hanno la ceramica più richiesta, più ditte, più grandi, più consorsi, sono più organizzati. Quindi secondo lei, gubbio, non ha in questo senso lavorato bene su se stessa? Non hanno fatto mai, hanno provato a fare consorsi, a fare associazioni, però tutti invidia. Gubbio, tu la ceramica mia è più bella della tua, con l'invidia che c'è stata, non hanno mai creato, dopo di fare un marchio e una richiesta grossa per poter lavorare tutti. Ognuno ha la sua butteguccia, difende la sua... E con questo però non si va avanti. Infatti è la fine che abbiamo fatto. Grazie.